buongiorno ragazzi oggi un nuovo video auto moto e mezzo abbandonati prima di andare al lavoro stamattina guardate cosa vi ho portato una cacciva raptor abbandonata qui da due anni questo è il terzo inverno che inizia qui alle interverie bella moto sempre piaciuta se non sbaglio questa montava il motore suzuki la moto si presenta ancora bene anche le gomme non sono sgonfie peccato davvero bella bene ragazzi raccomando condividete iscrivetevi al canale lasciato un like c'è pure il gatto ciao